Un trattore gommato con tanto di carrello al traino pieno di pomodori che approfitta delle ore notturne per percorrere indisturbato o contromano oltre 200 metri del corso 6 aprile, procedere tranquillamente in direzione di piazza Ciullo, attraversare la stessa piazza, la principale della città e proseguire sempre contromano lungo via Mazzini. E' quello che ha segnalato alla nostra redazione, come vediamo dalle immagini amatoriali, un telespettatore. Il tutto, ripreso da un passante, sarebbe avvenuto intorno alle 3.45 di ieri, in pieno centro storico ad Alcamo, in barba alle norme del codice della strada. Per fortuna, vista l'ora, non pare che il grosso mezzo abbia causato danni a persone o cose. Si ricorda ai telespettatori che è possibile inviare e vedere pubblicati anche sul sito internet alpauno.com i video riguardanti avvenimenti che potrebbero essere di interesse pubblico alla nostra redazione